Nel 2024 il settore delle costruzioni in Sicilia, parallelamente a quanto osservato a livello nazionale, risentirà del mancato apporto della manutenzione straordinaria a causa dello stop dell'accessione del credito e dello sconto in fattura. L'Ance, l'associazione dei costruttori, stima un calo dei livelli produttivi del 7,4% in termini reali su base annua e quanto emerge dal report del Centro Studi Ance che ha presentato a Palermo gli scenari regionali dell'edilizia 2024 in collaborazione con la società di ricerca Prometeia. Per il settore il 2023 è stato invece un anno positivo con la crescita del 5,2% rispetto al 2022. Dai dati elaborati dalla Commissione Nazionale Paritetica per le casse edili risulta che nel 2023 l'aumento è stato dello 0,8% nel numero delle ore lavorate e dello 0,7% per quello dei lavoratori iscritti. Il 2023, dice il direttore del Centro Studi Ance Flavio Monosilio, grazie al superbonus e all'avvio dei lavori legati al PNRR, ha rappresentato un anno di conferma del buono stato di salute del settore. In soli tre anni gli investimenti in costruzioni in Sicilia sono tornati su livelli paragonabili a quelli del 2010. Per il 2024 invece, ha aggiunto il direttore del Centro Studi Ance, il quadro cambia. La nostra valutazione è di un indebolimento dell'attività produttiva. In questo contesto i principali nodi da sciogliere per il settore sono rappresentati dal PNRR e dall'accesso al credito.